Volevo ringraziarla per la bellissima lettera che mi ha mandato, che mi fa veramente molto piacere, anche perché è bello sentire qualcosa di positivo in questo periodo in cui invece si vogliono sottolineare delle cose che derivano purtroppo soltanto dalla violenza con cui questo virus ha colpito una parte della nostra regione. Quindi innanzitutto grazie per le parole e poi sono molto contenta dell'esito di questa situazione che è eccezionale, è qualcosa che bisogna pubblicizzare il più possibile perché è stato veramente un piccolo miracolo che mi ha riempito di gioia. Sì, io volevo ringraziarla come l'ho già detto perché per me è stata dura, è stata difficilissima, però sembra tutto finalmente passato, sto solo aspettando il parto con tanta paura, non lo posso negare, però mi sembrava doveroso dover ringraziare tutto quello che c'è stato dietro al mio star bene, quindi tutto quello che sono stati i dottori, due in principal modo e poi tutto quello che è stato appunto l'ospedale perché poi mi hanno trasferito in due reparti, in entrambi i reparti sono stata trattata veramente benissimo. No, no, devo ringraziare e anch'io vi farò parte per ringraziare tutti i medici e tutti coloro che l'hanno assistita che dimostrano come lei ha detto che la nostra sanità è veramente qualcosa di eccezionale perché è fondata su persone eccezionali, perché sono veramente persone che hanno in questa occasione dimostrato una capacità, una umanità, una disponibilità che vanno al di là dell'immaginabile, quindi credo veramente che loro meritino veramente queste sue parole, loro sicuramente. Tutto quello che c'è dietro ha il mio essere stato bene perché, ripeto, mi sembrava doveroso insomma adesso che sto bene, psicologicamente mi sto riprendendo perché quella è stata la parte un pochino più difficile, quindi sto solo aspettando la mia bambina in questo momento in realtà. Il parto è previsto fra 50 giorni, il 28 luglio avrà il termine. Magnifico, molto molto bene. Grazie, grazie a lei, volevo ancora ringraziarla di tutto e grazie perché è un'ottima regione. Grazie.